Musica Entrano in campo Zenith e quelli del Vannella Questa giornata Summer Cup Zenith andrà a ricerca ancora del primo successo stagionale Quelli del Vannella invece In altra posizione di classifica Siamo al saluto tra le due compagini Speriamo dà una novità Una bella gara Tocco pallacamp tra i due capitani Mi hanno messo in lì Il numero 8 giù Di quello del Vannella Asido della gara Alessandro Passarella Campo 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.